Ciao ragazzi, oggi è il valore del rigore. Sentiamo cosa ci dice. Il valore del rigore è figlio del valore della volontà che si sposa con la fermezza a indicare che essere rigorosi significa aggiungere una direzione netta di precipitazione del proposito affinché il risultato abbia una collocazione unica nello spazio. Suono. Precipito la forma nel luogo giusto. Luce. Dirigo le cose nel verso giusto secondo coscienza. Colore. Elimino ogni imprecisione dalla forma voluta. Vibrazione. Escludo l'oscillazione e trovo il punto di caduta. Azione. Disegno le forme della vita secondo i numeri che tracciano le linee di forza. Ecco il simbolo del rigore. Lo vedete? Ha il tempio violetto dell'ordine con dentro la stella cinque punte arancione della conoscenza, la stella tre punte verde dell'intelligenza e infine la freccia rossa della volontà che punta verso il basso. Poiché il rigore appartiene alla materia, alle forme materiali e quindi che siano esse di pensiero, di corpo emotivo o di azione. Sempre forme materiali. Dunque il rigore si applica alle forme manifeste, cioè della manifestazione. La manifestazione apparente, ricordiamocelo. Bisogna distinguere tra apparenza e realtà. La realtà è tutt'altra cosa da quello che crediamo. Dunque scoprire la realtà non è cosa per ciascuno di noi. Bisogna entrare nella conoscenza sottile, per cui su fraternity.it trovate gli strumenti e su animaribelle.org trovate i valori per crescere ed elevare di frequenza tutti i vostri disagi. Sì, sì, sì.